Bella ragazzi qui Nexus e questo nuovo commento è su Dynelight Dunque, nello scorso episodio eravamo arrivati qui Che tolunce questo pochino di merda No per la verità dobbiamo scappare da tutti che ci spaccano No per la verità Cacatraia, corri Ok To In c'è anche qui escono dalle fottute pareti Il mio pezzo di posto Corri mandardo, corri Non più Su, no, no Vaffa qui, corri Corri Oh C'è no Pocca vacca Divelo, boh, livello di posta così Ecco Quell'altra volta non mi ricordo L'abbiamo preso, la corda, si, 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 l'abbiamo preso Ma se ne ha Devi correre Corri Qui eravamo preso, non ci ricordo male Esattamente Porca troia E' un casino sto livello Non volevo fare questo Non sono confuso di più salse Volevo premere la F per strangolarmi L'ora di calcio Molto più velocemente Come fanno a colpire Ma quanto sono veloci Sti bastanti Dovrei impostarmi la La torcia Ui L'unica cosa Perché così almeno Troia Mentre corri Ci si gira con la B E gli fa E gli si fa la luce L'unica cosa E non sai No era meglio No Era meglio non c'erli Chi Corri 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 No eravamo arrivati qui L'ho subito dopo Andiamo a vedere Affranculo Stronzo Non ricordavo Che uscima di davanti Corri 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 no Di nuovo Come l'altra volta Scusate Sarà un casino Corri 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 Merda Ma che arrivano gli altri Corri Corri Non così Corri Non ho detto Sarà un casino Farò adesso Adesso vediamo E non riesco a farlo Sul giro Lo Interrompo Mica non riusciamo Cioè Mica non riesco Che alla fine Mi blocco sempre Nell'ultimo pezzo Perché non sarà Dallo stronzo Poi stavo pensando Quasi così Di fare anche gli LC Però non lo so Perché da quello lì Se non sbaglio Sarà tutta una cosa Simile a questo Perché si ha il tempo Per fare delle cose E sta a fare Ho visto Il video del Del trailer Non mi sembra Ammalaccio Stavo Devo ancora Decidere Vediamo 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 questo Vediamo questo Dovremmo essere Lì Che confessa Ma Stancudo Sto 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 Allora No L'ho fatto Pronto E subito Ho interrotto Il gozo Al primo tentativismo Che ho fatto Perché mi sono fermato Che fai Qui mi sono fermato Il momento Dove salire più che altro voi si stanno venendo oppure no preferisco non saperlo no sembra che si siano fermati ah questo qua non è l'arena sembrerebbe di si vedere qui seguimento schivato vediamo il potenziamento che ho sbloccato non so perchè forse questa cosa bella allora c'è lancia impatto perché sono tutti attacchi a due mani mi interessano più di tanto facciamo le metto in verso perché sono tutti quanti potenziamenti per armi a due mani peccato forse tu sei il re il re della mema cos'è non c'è niente di oh buono non so ah no alcol non puoi sconfiggere stavo cercando i medici i tuoi testamenti bisogna salire giù qua però proprio sopra che caccia sta sparando come si ah dico ovviamente ovviamente no 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 ne fare cuttanate che ne potresti pentire sarati qua? Oh, per la prima volta ho fatto uno scensore, ma non ho mai più. Cioè, normalmente, però ho una scensore. Poi gli accompagnamenti. No, no, mi piace gli accompagnamenti. Ah, no, non so. C'erano molti. Gli altri per uno schiavo. Secondo me non me la dice. Non arriviamo. Invece sì. O forse no, perché si sta bloccando l'ascensore. Non so perché lo scorso video stava così tanto. Spero che questo fa non sta. Io non lo so niente. Potevamo salire da due piani, eh, cazzo. Potevamo salire da due piani. Ah, buongiorno. Potevamo salire da due piani. Ah, guardate cosa posso fare. Sì, non mi rompo nei coglioni. Posso Andarmene tranquillo Non so dove No Di certo Di Qua Non è una bomba questa Devo incontrare L'ice in cima Anche nel sky Ma è pieno di bombe Non è questo posto Per dire Buono Ah mi vedi Due piani sopra di noi Attraversa il secondo blocco Più in alto che poi Come torna indietro Infatti lo dovrete tutto prima Mordo Oddio Oh mi hanno tolto la Mimitizzazione Stai buono Stai buono Non so se No, non sapevo se mimetizzavo il treno al sacco. Sono fatto bene. No, ma ma capo. Che bello. Che voce. No, l'ultima. Scusate. Quello vorrei evitare di non esplodere in faccia. Qua tanto dovrò andare, sicuro. Veloce, 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 veloce. Oh, la cazzo. Chi si può? Au. Che cazzo volete? Sono mimetizzato, perché? Non sapevi che gli sono andato troppo addosso a questo. Guarda, perché non mi segui? C'è qualcosa che non mi guarda. Madonna, mi ho fatto gli odio questi pezzi. Dì, di qua? Via, come? Puttana la storia, che non avevo visto. Porca troia. Non mi vuoi scattare, porca troia. Ho cercato così nei momenti più incitati. No. No. Bisogna sempre salvo correndo. Perché a 30 non ce la si fa, stagire? Cerchiamo di fare... No. Ma perché? Proviamo a farlo. Ma l'anima. Ma tomba tu! Ma l'ho fatto. Mi serve un attimo. No. Puttana bastarda. Quelli qua la bomba alla kamikaze. No. Che c***o. Come scappo da questo? Non si può scappare da quello? Ma tomba mia. Sì, non è esattamente ciò che volevo fare. Devo imitizzarmi se non fanno uccidere. Allora. Ora che sono imitizzato. Vediamo un attimo dove andare. Che probabilmente sarà qua. No. Bisogna salire in qualche modo. Quindi ci sarà una scala da qualche parte. La tua amica c***o è tosse ogni volta che... Scensore. Non fare puttana te bastarde. No, dove mi sono andato a piccare? Perché? Vabbè, basta. Madò, che c***o. Cosa ho recuperato? Ma non è niente. Di qua. Dovrei farmi di me. Non sarebbe una cattiva cosa a farsi di me il kit, onestamente. Kit di soccorso. E che peccato, m***a. Te ne passano uno per voi. Ma due c***o. Per questo non c'ho mai voglia di fallo. Io si perde un sacco di tempo. Oh, dovrei mettermi a fallo prima che interrompro. Tipo, prima non potevo. Perché ero in mezzo a... E qui, sono di... Che si corrono veloce. E ti fanno il c***o. Quindi come fa a scappare da loro? Cioè, fare... Trovare il tempo di farlo. C'è qualche zombie, eh? Veloce, sai. C***o. No, però sono solo per amare. Quindi almeno non dovrebbero l'opera. C'è la scala di farlo. Madonna mia. Sì, non, non giu... Ma dalla fine giugorai, insomma, no. Cioè, che poi non è nuovo. Poi non è nuovo come... Non è un attacco. Si suicida, praticamente. Ma... Ah, ok. Poi probabilmente... Sì, non mi sto salendo qui. Non dovrei salire in cima all'edificio, in teoria. Ma che cosa è successo? Che modo di averlo capito che cosa è successo. Finito anche i colpi, eh? Sali? Sali? Non posso salire con la spada? Aspettate che dà. Il corpo di mazza... Ci deve essere uno di quei bestioni, probabilmente. Ma per forza? Dove cazzo è? Sop, probabilmente. No! Ma si è pagato tutto, se la pagato. Che cazzo è? Non c'è! Ma cazzo, questo coglione! Merda! No! No! Ce l'ho quasi arrivato! Dove avrei dovuto saltare? Non c'è che ci sono. Corri, 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 corri! Prima che finiamo giù. No! Ho fatto la cazzata! Non so di arrivarci. Come fai a correre qui laggiù? Non è possibile. Non si fa stai. No! Ma come cosa? Ma la prova non c'è la... Probabilmente. Merda! Per quanto... aspetta proviamo ad arrivare fino al coso magari ce lo facciamo corri corri ma non cari e poi com'è caduto come se non ci facciamo ad arrivare fino a punta al coso senza di morire ci sono stati due giorni di inizio ce la facevamo tranquillamente non saremo là ma poi cosa saranno queste planche roba strana si sono non mi fido di questo l'avrei buttato giù io in ogni caso certo che correre è così un tazza fare non è proprio il massimo devo dire chi ce la fa? ma do sto dicendo non ce l'ho ok qua sotto scavalchiamo ma do il percorso di un stacco mi mancava guardate che portello ok ok dunque non arriviamo in cima perché sono già 17 minuti interroppiamo qui questo episodio nel prossimo probabilmente ci sarà lo scontro finale e contro finale penso dunque se questo video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al mio canale ma soprattutto commentate